I martiri non sono eroi ma veri testimoni del Vangelo, ne ha parlato questa mattina Papa Francesco nella catechesi in udienza dedicata al martirio. E fra Francesco Neri, il nuovo arcivescovo di Otranto, questa mattina l'annuncio nelle sue parole al ricordo di Monsignor Benigno Papa, recentemente scomparso. 50 anni di ordinazione presbiterale per Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia, chiedo a Dio di verificare il mio amore per lui. Nella Basilica della Madonna dei Martiri di Molfetta è stata accolta la croce realizzata con pezzi dell'imbarcazione affondata a febbraio a largo della Calabria, a Cutro, provocando più di 90 morti. Qual è la vera situazione in cui verse il pronto soccorso del buon uomo di Andrea? Lo chiede a nome del Comitato per il nuovo ospedale Sabino Zini, già consigliere regionale. Ben trovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione. I martiri non sono eroi ma veri testimoni del Vangelo. Ne ha parlato questa mattina Papa Francesco nella catechesi in udienza dedicata proprio al martirio. Non si deve mai uccidere in nome di Dio, ha detto e ha citato i martiri dello Yemen. Poi l'auspicio finale, tutti i martiri siano semi di pace e di riconciliazione. Ascoltiamo. Oggi il nostro sguardo si rivolge non a una figura singola, ma alla schiera di martiri, uomini e donne di ogni età, lingua e nazioni che hanno dato la vita per Cristo. Che hanno versato il sangue per confessare Cristo. E dopo la generazione degli apostoli sono stati loro, per eccellenza, i testimoni del Vangelo. I martiri, però, non vanno visti come eroi, che hanno agito individualmente, come fiori spuntanti in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore che è la Chiesa. I particolari cristiani, partecipando assiduamente alla celebrazione dell'Eucaristia, erano condotti dallo Spirito a impostare la loro vita sulla base di quel mistero di amore, cioè sul fatto che il Signore Gesù aveva dato la sua vita per loro e dunque anche loro potevano e dovevano dare la vita per lui e per i fratelli. I martiri, a imitazione di Gesù e con la sua grazia, fanno diventare la violenza di chi rifiuta l'annuncio dell'occasione, un'occasione grande di amore, suprema, che arriva fino al perdono dei propri aguzzini. I martiri ci mostrano che ogni cristiano è chiamato alla testimonianza della vita, anche quando non arriva l'evoluzione del sangue, facendo di se stesso un dono a Dio e ai fratelli a imitazione di Gesù. Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per lui siamo tutti fratelli e sorelle, ma insieme si può dare la vita per gli altri. E fra Francesco Neri, il nuovo arcivescovo di Otranto, questa mattina a mezzogiorno, in contemporanea nella Sala Stampa Vaticana e nella Diocesi di Otranto, l'annuncio presente appunto fra Francesco Neri, nelle sue parole il ricordo di Monsignor Benigno Papa, recentemente scomparso il 17 giugno prossimo, l'ordinazione episcopale nella Cattedrale Idruntina. Vediamo. Carissimi, sono lieto di comunicare che oggi, il 19 aprile 2023, il Santo Padre ha nominato il nuovo arcivescovo dell'ansidiocesi di Otranto, il reverendo padre Francesco Neri, dei frati minori Capuccini, finora consigliere generale dell'Otranto. Questa mattina a mezzogiorno, in contemporanea nella Sala Stampa Vaticana e nella Diocesi di Otranto, è stata data lettura del decreto con cui Papa Francesco ha designato Fra Francesco Neri, nuovo arcivescovo di Otranto. Subentra Monsignor Donato Negri, che lascia per raggiunti limiti di età. Fra Francesco Neri attualmente ricopre una serie di incarichi all'interno dell'ordine francescano e consigliere generale per la Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Capuccini e delegato del Ministro Generale per la Fraternità di San Giovanni Rotondo, la Fraternità di Pietrelcina, la Fraternità del Santuario di Loreto e del Monastero delle Monache Clarisse Capuccine di Garbatella. È nato a Catanzaro 64 anni fa, il 21 dicembre del 1959, ed ha ricevuto l'ordinazione presbiterale il 6 luglio del 1991. Nel 1983 si è laureato in giurisprudenza, nel 91 ha ottenuto il baccellerato presso lo studio teologico interreligioso pugliese a Bari e due anni più tardi ha conseguito la licenza in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e nel 1988 il dottorato in teologia dogmatica presso la stessa Università Pontificia. Andrà a guidare un arcidiocesi dalle antichissime tradizioni, nota in tutto il mondo soprattutto per i fatti accaduti nell'agosto del 1480, quando l'arcivescovo Stefano Pendinelli venne trucidato dai turchi nella cattedrale insieme a sacerdoti e religiosi, mentre 800 ottantini sul colle della Minerva affrontarono il martirio per Cristo. Oggi l'arcidiocesi di Ontranto accorpa anche il territorio di Castro. Ricorreva ieri il cinquantesimo anniversario dell'ordinazione presbiterale di Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo metropolita di Foggia a Bovino. Per l'occasione ha presieduto una celebrazione che Teledeon ha trasmesso in diretta. Risentiamo un breve passaggio della sua omelia. Io non so amarti come mi chiedi, non ne sono all'altezza, anche se ti adatti al mio limite, alla povertà del mio cuore. Per essere discepoli, l'unica cosa che conta, l'unico aspetto su cui Gesù chiede di verificarmi, è l'amore per Lui. È l'amore per Lui che rimette nelle sue mani il desiderio di santità e le possibili fragilità, riconsegnandoli tutto di me. L'essere troppo sicuro della mia fedeltà, troppo ripiegato sulla debolezza, non può che impedire di rinnovare la decisione di rispondere alla chiamata, con l'amore di cui sono capace, solo per grazia e mai per merito. Noi sacerdoti siamo chiamati alla spogliazione interiore, al distacco da noi, per ambire al cuore di Cristo. Ricordiamo che l'impegno di formare altri alla maturità cristiana non è perciò stesso garanzia di crescita personale, tantomeno garanzia di libertà da errori nel proprio cammino di credenti. Di qui il rinnovato invito, rivoltomi dal Signore, si trasforma in comando. Seguimi. Finalmente, dopo cinquant'anni, hai capito che non sei in grado di seguirmi, che l'essere mio discepolo non è frutto dei tuoi sforzi, perché non è mai un'impresa personale, ma solamente un dono divino. Se finalmente hai capito che non puoi seguirmi, allora sei pronto per seguirmi. Nella Basilica della Madonna dei Martiri di Molfette è stata accolta la croce realizzata con i pezzi dell'imbarcazione affondata a febbraio a largo della Calabria, Cutro provocando più di 90 morti. Vediamo. Una croce che non annuncia la salvezza, ma che è il simbolo di una indifferenza che ha provocato morti, 91 per la precisione, persone naufragate tra le onde del mare a largo di Cutro, Calabria, nel febbraio scorso. I pezzi di legno che compongono la croce sono stati recuperati dal relitto di un'imbarcazione che doveva portare liberazione da fame e violenze e che invece è divenuta tragedia. Una croce che ferma qui, nella Basilica dedicata alla Madonna dei Martiri di Molfetta, in cui assume un significato preciso. Rappresenta un segno per sensibilizzare i fedeli, la gente, a un'apertura nei confronti di tutti questi fratelli che entrano nelle nostre terre, ma soprattutto sensibilizzare la nostra terra verso il Mediterraneo, proprio perché si affaccia su questo grande mare che è contenitore di tante situazioni, anche quelle più particolari come le morti, ma può essere anche un segnale di speranza, di sensibilizzazione e di apertura e di accoglienza. È una croce che parla anche di dispersi e cadaveri non identificati, diventati sigle fatte di numeri e lettere. Una croce che ricorda che la dignità dell'uomo è stata calpestata e lasciata soffocare tra le onde del mare. Ecco perché le sue braccia si caricano di valori, gli stessi professati dal Santo di Assisi. Francesco era un frate aperto al dialogo con il mondo, era aperto al dialogo con tutte le realtà altre, con i fratelli lebrosi di cui lui si prendeva cura personalmente. Vuole essere per noi un rinnovare il francescanesimo in Puglia, proprio perché si lega con queste realtà. Il francescano è colui che sa accogliere pienamente i fratelli, anche i fratelli più bisognosi e il messaggio di Francesco attraverso tutto questo vuole significare per ciascuno di noi un'apertura, un'accoglienza verso i fratelli più bisognosi, soprattutto i fratelli che giungono nelle nostre terre. La comunità della diocesi di Molfetta il 20 e il 23 aprile prossimi accoglierà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della conferenza episcopale italiana e il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di sua santità per la città del Vaticano. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Teledeon. Entra nel vivo il programma della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi in occasione del trentesimo anniversario del Dies Natalis del venerabile Don Tonino Bello. Giovedì 20 aprile alle ore 19 nella cattedrale di Molfetta sarà celebrata la messa presieduta da cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale italiana. I fedeli potranno seguirla anche in diretta tv trasmessa da Teledeon sul canale 19 in Puglia, 86 in Calabria e 186 in Campania del Digitale Terrestre. Inoltre domenica 23 aprile alle ore 9.30 nella concattedrale di Terlizzi in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Sovereto è prevista la concelebrazione eucaristica presieduta da cardinal Mauro Gambetti, vicario generale di sua santità per la città del Vaticano. Anche la solenne celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teledeon. I giovani soprattutto per effetto della pandemia stanno vivendo un momento molto complicato che sfocia troppo spesso in comportamenti autoresionisti fino all'estremo. Istituzioni, chiesa, scuola provano a farsi carico di questa vera e propria emergenza sociale. Se ne è discusso a Minervino, Murge. L'ASLBAT c'è sul territorio, quindi il messaggio di oggi è proprio questo, cioè dimostrare che noi ci siamo con il nostro Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e il Dipartimento di Salute Mentale. Quindi offriamo un servizio di presa in carico dei ragazzi di riabilitazione e di cura. Questa iniziativa, come altre che sono state fatte, rientra sotto il cappello del patto educativo e quindi tutti insieme siamo interessati a capire, a comprendere, a trovare eventualmente soluzioni per questi giovani che vivono un momento di difficoltà. Non sono delle idee che devono transitare da una testa a un'altra testa, ma è un modo di essere e di vivere che deve essere sperimentato come bello, piacevole, gioioso e forte, anche di fronte alle difficoltà. Essere capaci di comprendere, questo sì, che la vita non sta scritta a nessuna parte, che è solo gioia e godimento, è anche lotta, è anche fatica, ma è importante avere obiettivi belli davanti, verso i quali camminare, per i quali lottare, per i quali mettersi in gioco. Qual è la vera situazione in cui versa il pronto soccorso del buon uomo di Andrea? Lo chiede a nome del Comitato per il nuovo ospedale Sabino Zinni. Non si placano le polemiche politiche che hanno fatto seguito alle dimissioni del primario del pronto soccorso di Andrea, il dottor Tiziano Valentino, che con il suo gesto ha voluto richiamare l'attenzione sulla situazione complicata che si vive nella struttura di emergenza e urgenza del nosocomio andriese. A intervenire in queste ore è stato anche Sabino Zinni, a nome del Comitato per il nuovo ospedale di Andrea, che ha sottolineato che questa vicenda pone a tutti i cittadini andriesi e ancor più a chi ha fortemente perolato la causa di un nuovo ospedale il dovere di chiedere con forza a coloro che possono farlo parole inequivocabili di verità sul caso. Zinni in particolare chiede di sapere se corrisponde a verità che il pronto soccorso del buon uomo lamenti realmente la carenza di personale strutturato denunciate dall'ormai ex primario e se vi sia la necessità sistematica di ricorso a personale volo interoso ma non adeguatamente pronto. Abbiamo il diritto di saperlo, dice Zinni, e ancor più di sollecitare una soluzione che pur nella consapevolezza delle difficoltà di reperire personale medico e paramedico capace e disponibile, fornisca una risposta adeguata e concreta ai bisogni del pronto soccorso di una comunità larga che oltrepassa di gran lunga i confini territoriali della nostra città. Noi, conclude Zinni, continuiamo a sollecitare in ogni modo e ad ogni livello la costruzione di un nuovo ospedale e vigileremo e pungoleremo chi di dovere perché ciò accada in tempi non più dilazionabili. Ma nel frattempo, il nosocomio esistente che raccoglie tanti operatori meritevoli, capaci, preparati e coscienziosi merita tutta la nostra attenzione ed abnegazione perché sia all'altezza della domanda di chi adesso, in momenti di urgenza e di malattia occuta, si rivolge. Su questo saremo intransigenti. A Capurso è nato il primo ordine interprovinciale di fisioterapisti di Bari, Batte e Taranto. La lotta all'abusivismo sarà il primo obiettivo del nuovo organismo. Sentiamo. È stato istituito a Capurso per la prima volta il consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Bari, Batte e Taranto. L'obiettivo principale del nuovo organismo sarà la lotta all'abusivismo della professione insieme alla tutela della persona. Il ruolo del fisioterapista nel periodo post-pandemia ha assunto un ruolo di maggiore rilevanza. In seguito alle recenti disposizioni di legge il nuovo ordine ha proceduto all'elezione dei vertici e del consiglio direttivo. Presidente è Giacomo Berloco di Altamura mentre il vice è Francesco Savino di San Michele di Bari. Gli incarichi sono stati assegnati all'unanimità nel corso della prima riunione del consiglio direttivo composto a maggioranza femminile. Il nuovo ordine interprovinciale rappresenta una forma di garanzia sia per gli iscritti che per i pazienti che avranno la possibilità di affidarsi a fisioterapisti professionisti riconosciuti. Per raggiungere il primo obiettivo cioè quello della eliminazione dell'abusivismo saranno messi a disposizione dei pazienti degli strumenti utili per riconoscere gli operatori non autorizzati come il sito internet ufficiale dell'ordine. Inoltre sarà disponibile in breve tempo un portale web di riferimento con tutte le informazioni necessarie per aprire questa professione al territorio pugliese. In Italia un giovane su quattro a rischio povertà, dirlo l'Eurostata che ha reso note le rilevazioni europee in merito a rischio povertà dei cittadini di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Scopriamo di più nel servizio. Nel 2021 un giovane italiano su quattro tra i 15 e i 29 anni è a rischio povertà. A rivelarlo sono i dati dell'ultima analisi dell'Unione Europea. In Italia la percentuale si attesta a poco meno del 25%. In Europa si riduce al 20%. Secondo l'indagine di Eurostat e l'ufficio statistico europeo la percentuale che riguarda l'intera popolazione registra il 17% mentre l'Italia il 20%. Dalle ultime rivelazioni del report europeo è emerso che il bel paese si colloca al quinto posto partendo dall'ultima posizione della classifica dei paesi dove la vita per i giovani è più difficile. Nello specifico per Eurostat il tasso più alto di rischio di povertà ha riguardato i giovani europei tra i 15 e i 29 anni rispetto alla popolazione totale. A destare preoccupazione è soprattutto la percentuale di grave deprivazione materiale sociale tra i giovani che si attesta al 6,1%. Per quel che riguarda invece la popolazione totale cioè le persone che vivono in famiglia è un po' più elevata 6,3%. Ma cosa si intende per deprivazione materiale e sociale? Si tratta della impossibilità di sostenere spese impreviste di permettersi un periodo di ferie o di far fronte ai costi relativi all'affitto, al mutuo o alle spese di consumo. L'analisi di Eurostat prende in considerazione anche la capacità di mangiare a giorni alterni pasti alternativi per esempio a base di carne pesce o vegetariano tra gli indicatori per stabilire la soglia di povertà sociale anche la possibilità di vivere in una casa accogliente e di avere a disposizione un'automobile per uso personale. E ora come ogni mercoledì consueto appuntamento con la rubrica 120 secondi di Fede, Arte e Cultura all'approfondimento di Teledeon sui tesori delle diocesi del territorio pugliese. Oggi scopriamo il santuario della Madonna della Salute di Taranto la rubrica è a cura di Damiana Dorotea Sgaramella realizzata con il contributo della struttura speciale comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Benvenuti ad una nuova puntata di 120 secondi di Fede, Arte e Cultura A Taranto è presente il santuario della Madonna della Salute o chiesa di Monte Oliveto è stata per anni il centro della fede degli abitanti dell'isola madre della città nei secoli fino ad oggi. Nel borgo antico della città di Taranto è situato il santuario della Madonna della Salute o più comunemente noto come santuario o chiesa di Monte Oliveto il cui nome deriva dalla congregazione olivetana alle cure della quale fu affidato il complesso trasformando il collegio nel proprio convento. Inizialmente fu chiamata Chiesa del Gesù. La sua costruzione risale al 1686 per volere della compagnia di Gesù e si protrasse per ben 77 anni sino al 1763. Dopo quattro anni dalla conclusione dei lavori, il 21 luglio del 1767 la compagnia di Gesù fu soppressa da Papa Clemente XIV e per questo nel 1773 i padri lasciarono la città e il complesso fu affidato alla congregazione olivetana. Nel 1924 i Gesuiti rientrarono a Taranto ma dovettero trasferirsi in un edificio limitrofo denominato Istituto San Luigi e collegato alla chiesa tramite un cavalcavia. Successivamente nel 1936 Taranto venne consacrata all'icona della Madonna della Salute da cui il santuario prende la sua attuale denominazione. Il culto nel Tempio fu gestito dai Gesuiti fino al 1992 anno in cui lasciarono definitivamente la città. Salus infirmorum salute degli infermi è la scritta beneaugurante che spicca sull'altare maggiore che insieme all'icona della Madonna della Salute accoglie i visitatori appena varcata la soglia del santuario. Il suo elemento di maggior pregio è rappresentato dall'icona della Madonna un dipinto ad olio su tela copia della celebre icona bizantina della Salus Populi Romani che si venera a Roma nella basilica di Santa Maria Maggiore e realizzata con ogni probabilità dal pittore leccese Antonio Verrio. La Vergine è ritratta in piedi vestita con una tunica rosacea e un manto bluastro bordato di oro simboli dell'umanità rivestita dalla grazia divina. In braccio regge il bambino Gesù vestito con una tunica anch'essa rosacea e un manto dorato colori tipici della duplice natura umana e divina di Gesù. L'interno del santuario a croce greca è impreziosito complessivamente da quattro cappelle due disposte su ogni lato. A destra la prima cappella con la statua di San Raffaele Arcangelo e la seconda con quella del crucifisso. Sulla sinistra invece è possibile ammirare la cappella di Sant'Ignazio e a seguire quella del cuore di Gesù. Alzando lo sguardo al cielo si resta incantati dalla grande cupola che sovrasta il Tempio Sacro arricchita dai dipinti dei quattro evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questa ammirevole opera architettonica, una perla incastrata tra le fitte viuzze nel cuore storico della città è stata il centro della fede per gli abitanti dell'isola madre di Taranto nel corso dei secoli fino ad oggi. ed è tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi la linea alla rete per la consueta programmazione a più tardi a più tardi a più tardi Grazie a tutti.